È Fabrizio Di Carlo il nuovo difensore civico della Regione Abruzzo, al fianco dei cittadini e per i cittadini che potranno ricorrervi per le questioni di accesso ai servizi o accedere a informazioni che la pubblica amministrazione si rifiuta di fornire. L'incarico di Di Carlo durerà 5 anni e subentra all'uscente Sissi. Primo obiettivo, proseguire il lavoro svolto finora e potenziare l'attività degli uffici. Innanzitutto prendere atto di quello che è lo stato dell'ufficio, che so che è un ufficio che ha molto lavorato e ben lavorato in questi anni e poi cercare di valorizzarne la funzione, di ampliarne il ruolo in quello che mi sembra un atteggiamento doveroso da portare avanti perché questa è un'autorità importante, credo che possa diventare ancora più importante nel corso degli anni, penso che ci sia molto da lavorare e occorre incominciare a farlo presto. Come si può migliorare questo ufficio a cui il cittadino si può rivolgere? Innanzitutto la cosa fondamentale sia quello di continuare a fare quello che già faceva, ha fatto lodevolmente il difensore civico uscente, cioè continuare a diffonderne la notizia dell'esistenza e l'uso, le possibilità di accesso, che è un accesso tutto sommato semplice a costo sostanzialmente zero. E poi forse vi sono anche altri modi, queste sono questioni sulle quali occorrerà riflettere per valorizzare quella che è una funzione di tutela e di garanzia dei diritti dei cittadini, degli interessi soggettivi dei cittadini. Quindi continuare a diffonderne l'uso e le istruzioni per l'uso, diciamo così. Grazie.